La sera del 5 febbraio del 1981 mi trovavo in servizio nella storica caserma di Prato della Valle e sono venuto con il carro luce perché necessitava della luce per trovare i reperti di quello che avevano commesso i banditi. 40 anni fa il vigile del fuoco Giovanni era in servizio e fu tra i primi ad arrivare sull'ungargine scaricatore dove due giovani carabinieri durante un conflitto a fuoco erano appena stati uccisi da un gruppo dei NAR l'organizzazione terroristica di ispirazione neofascista. Oggi nel giorno del ricordo dell'appuntato Enea Codotto e del carabiniere Luigi Maronese Giovanni, 89 anni, è voluto essere presente alla cerimonia e alla deposizione della corona di Alloro. Una volta piazzato il carro mi ho preso la pilla, la lampada e sono sceso nella scarpata. C'era un ghiaccio tremendo con la luce, luccicava tutto, era difficile trovare i bozzoli. I due carabinieri sono due vittime di quella stagione del terrore che il paese ha vissuto tra gli anni 70 e i primi anni 80. La città di Padova purtroppo in quel periodo di tensione e conflitto tra gruppi terroristi di estrema destra ed estrema sinistra ebbe un ruolo di primo piano. Quella notte del 5 febbraio 1981 Codotto e Maronese erano intervenuti dopo la segnalazione di un residente che aveva notato movimenti strani sull'argine. Vistisi scoperti, i terroristi neri che stavano recuperando delle armi iniziarono a sparare uccidendo i due carabinieri. Nello scontro a fuoco anche un bandito venne ferito, Giuseppe Valerio Fioravanti, detto Giusva, che poche ore dopo venne arrestato.